Sta notte mi sono svegliata con l'impellante bisogno di scrivere una poesia. Con il mio cognac e la mia penna di Chanel, dosfogo la mia ispirazione. In questa notte nebbiosa e tre silencieuse, vi parlerò anche di un film che non mi stanco di guardare. Purtroppo lo faccio per scoprire nelle falle, seppure la vita artistica che vi si racconta mi interessa moltissimo e anzi, ha fatto parte della mia adolescence, bien sûr. Scusate se mi sono dilungata, ma in questo momento sono particolarmente sentimentale. Non vi ho detto di quale finso per parlarvi. Provedo subito. The Doors di Oliver Stone Il film inizia con una poesia. L'atmosfera buia, che accompagnerà poi tutti i 140 minuti, nasconde l'uomo che recita i versi. E non ci è dato subito sapere di cosa si tratti fino al momento in cui verrà inquadrata la bottiglia di whisky. Insomma, fino alla bottiglia, regina di questo film, molto più protagonista di Jim Morrison e dei Doors, la poesia mi ha rapita, culminando in quella domanda che riascolto per provare a dare una risposta. Avete avuto un buon mondo, morendo? Abbastanza da farci un film? Perché la vita di Morrison è nota, così come è nota la sua morte, la quale per la verità è ancora più chiacchierata della vita. E forse proprio per questo Oliver Stone, nel 1991, cioè esattamente a vent'anni dalla sua morte, dedica all'artista un film che non ha un impianto narrativo lineare, ma una sequenza di immagini e romanzate che raccontano di un ragazzo che lascia all'università per dedicarsi alla vita bohemia, che scrive poesie e si innamora, che comincia involontariamente una carriera artistica che lo porterà a essere conosciuto a tutto il mondo, e poi alla morte. Oliver Stone conferma il suo stile è rabbioso, frenetico, probabilmente ispirato alla cinematografia surrealistica Pignuel, Dalì, Leger, con i quali condivide il senso di inquietudine, di isterismo. Ma per la Comtesse, questo suo stile è stato una gabbia nel film dei Doors, non permettendo all'autore di descrivere gli aspetti più umani di Jim Morrison nella vita di Ray, Robbie, Joe, che diventano invece personaggi puramente strumentali. La Comtesse vi dice, guardatelo, ma non fermatevi al film per capire l'arte dei Doors, semmai estrapolate la merveilleuse interpretazione di Val Kilmer e di McReyan, che hanno ben rappresentato il mito di Jim e Pam. E adesso continua a scrivere, perché come disse il poeta siriano Adonis, La poesia rende la vita sulla terra più bella, meno emphémere, meno miserable. Buon'nui! Grazie a tutti! Grazie.